Renzi o Bersani non sono la stessa cosa, sono le parole che arrivano da Bruno Magatti, ex assessore consigliere di Palazzo Cernezzi, presidente di Civitas. In questa frase infatti racchiusa la situazione che in questi giorni sta vivendo il centro-sinistra Comasco alla ricerca di una sintesi tra le due donne in lizza per la poltrona di futuro candidato per le elezioni a Como del 2022. Una parte del Partito Democratico assieme ad un'ala del Movimento 5 Stelle punta su Barbara Minghetti, consigliere comunale, nelle fila di svolta civica mentre un'altra parte dei Dem Civitas è una fetta più cospicua dei pentastellati, preferirebbe Adria Bartolic, sindacalista ed ex deputata. Al momento lo scenario più verosimile vedrebbe ricadere la scelta sul consigliere comunale di svolta civica per destinare invece all'ex deputata un ruolo di primo piano all'interno della nuova eventuale giunta. Stan dalle parole di Magatti però la decisione ancora non è stata presa. In questo momento c'è molta nebbia, qualcuno ha raccontato una storia, noi vogliamo ovviamente raddrizzare questa storia dicendo che nessuna scelta è ancora stata fatta per quanto riguarda la candidatura del candidato sindaco del centro-sinistra. Ci sono due disponibilità sul campo che però vogliono dire due indirizzi politici diversi e quindi evidentemente bisogna ragionare. Non mi si può dire che Renzi o Bersani sono la stessa cosa. Non esiste nessuna scelta tra Renzi o Bersani, replica Federico Broggi, segretario provinciale Dem, che ancora una volta prova a mediare e richiamare all'unità. Stiamo facendo un percorso insieme, tutte le forze in campo credo vogliano un progetto di sintesi, si aggiunge abbiamo un piano per la città forte e di rilancio. Le due figure che hanno dato la loro disponibilità sono persone inclusive che non vogliono spaccature ma serve la responsabilità da parte di tutti.